Ehi ragazzi, il nostro tour continua! Vi aspettiamo a Roma il 6 maggio alle ore 16.30 al Valmontone Outlet per abbracciarvi tutti quanti e conoscervi dal vivo! Mi raccomando, non mancate! Ciao! C'è qualcosa di speciale qua? Ciò che toccate, potete tenere! 1, 3, 2, 1, via! Ok, allora, devo un attimo risolvere questa addizione! 1 più 5, 9... No, fa 6! Oh, non c'è credo ragazzi! Non c'è credo! 1 più 5, 9, dai! 8 meno 2, 8... Non capisco niente! 8 meno 3, 8 meno... Vabbè, rifacciamo! Per fare il tiktok devo prendere la lamp... La luce, sì sì! Allora, quindi aspetta... E' mai troppo alta qui! Ecco, va anche le lampade... Abbassare un pochettino... E, signorina, potrebbe abbassare il tono della voce? No! No! S... Più complicato di previsto! Ok, ora facciamo il codice e mettiamo il tiktok! Buongiorno, ragazzi! Mettiamo il coso inter... Eccolo qui! Togliamo la musica! No, approssimato qua perché non mi vengo! Un secondo, un secondo! Un secondo! Oh! No! Ok! Ma perché non mi vede i miei occhi? Concentriamoci qua! Guarda il mio! Ok! Sboglia! Ragazzi, io non ce la faccio più! Io questo gioco non ce... L'ultima volta l'ho pubblicato e me ne ho dato! Ok! No, no, ok! Ok, no! Ok! Ragazze! Cosa amate? Io sto facendo il mio tiktok! Tu, Ludo? Ludo! Ti sei addormentata, Ludo? Mamma, posso? No! Guarda che una sorpresa per voi! Mettetevi sedute! Vi devo dire una cosa importantissima! Che sorpresa si tratta, mamma? Allora, signorine! Io oggi ho una challenge per voi! Oh, interessante! Però questa volta è una challenge davvero bella! Di cosa si tratta, mamma? Vi piacerà sicuramente! Ok, qualche indizio? Allora, di cosa voi vi lamentate sempre? Che non ci compri mai il McDo! No! Che non ci fai andare mai sul pazzino! Eh, esatto! No, 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 no! Ah, ho capito che non ci compri mai le caramelle! Eh, no! Allora, ho per voi delle cose bellissime! Dovete guadagnarvi questi regalini che vi ho comprato! Regalini? Ho capito tutto! Un astuccio nuovo! Un astuccio nuovo! Ecco! Allora, dato che mi chiedete sempre queste cose... Esatto! È arrivato il momento di riceverle! Però dovrete guadagnarvele! Queste cose! E in che modo? Quindi, prima cosa da fare... Bendatevi! E venite con me di là! Vado, andatevi! Mi bendo! Vedi che è quella situazione, mi piace! Eh sì! Dovrete guadagnarle queste cose, eh! Grazie! Mamma, io però... Insomma, io per la squadra ti chiedo sempre tutto perché a me servirebbe tutto nuovo! Perché serve tutto nuovo! Eh, ma mi dispiace! Dovrai guadagnartele! Ok, ragazzi! Allora, prendete le bende e venite con me di là! Su! Veloci! Dovrete guadagnarle! Andiamo! Andiamo! Vabbè, io mi metto là la bende, dai! Ok, dai! Mettiamoci la bende! domica sei determinato attenzione attenzione buongiornissimo quanto sono alto devo trovare la porta questa dammela mamma buongiorno mamma tu dove sei camminate mamma io mi scontro qua ok vado avanti mamma sono giusta mamma si vieni 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 vengo eccovi pendate e adesso la challenge avrà inizio ciò che toccate potete tenere mamma 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 ci sono tantissime cose belle cose che desideravate da tantissimo tempo dite sempre mamma a scuola mi è finito questo mamma a scuola mi è finito quello e quindi vi ho comprato tutte le cose che voi desideravate da tantissimo tempo mi piace sono cose della scuola si sono cose della scuola anche per il tempo libero ma lo avrà chi lo toccherà per prima ok chi inizia io ok Ludo al mio 3 puoi toccare il primo oggetto vai Ludo 3 2 1 via cercate bene non prendete le prime cose che avete sotto al naso che ho preso? ok prova a sbendarti prova a sbendarti che ho preso? cosa sarà? cosa sarà? posso aprire? si cosa volevi tu Ludo? i pastelli ma come i pastelli? in che senso i pastelli? ma ma qui c'è un altro piano? qui c'è un altro cassettone ma in che senso? scusa cassetti cassettini non l'ho capito cosa desideravi tu Ludo? da tantissimo tempo? i pastelli guarda come i pastelli? dove c'è? ma cosa stai dicendo? scusa guarda quanti meravigliosi colori questo li porterò a scuola così no così è dentro ma che cosa? allora io ho preso quella cosa là ma che cosa Ludo? mi dispiace Auri ma ti sei persa un articolo stupendo guarda 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 Maria Sante no cos'è stato morto? ma ma in che senso un articolo molto intorno e poi poi vedrai poi vedrai però nelle matite scusa poi facciamo una sfida che c'è le cose più belle e adesso adesso poi gli unicornini voteranno chi ha preso le cose più belle ok dai a mamma questo no quello questo te lo sei guadagnata ma che cosa? non capisco è della linea zo che cos'è? tinta unita ah scusa non so ok rimettiti la benda tu che ama? io? tu non toglietela però quando pesco grazie tocca a te auri vai auri pesca bene pesca bene pesca bene non c'è niente cosa ha preso mamma? non c'è niente qui come non c'è? pesca bene pesca bene ma cosa c'è? è il tavolo potere della telepatia ecco qua ci sono le patate potere della telepatia no no qua ci sono le patate ecco vediamo 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 questo no non toccare niente tu Ludo cosa hai toccato? ma che cosa è questa cosina? comunque vediamo cosa hai pescato auri mi dispiace vediamo 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 no non ci credo no guardate cosa mi chiedevi sempre tu? ma guarda che bei colori poi queste cose ve le potrete portare a scuola aspetta voglio vedere un attimo com'è la punta vediamo un pochettino io posso fare dei titoli magnifici come le ragazze come se aspetta voglio anche dell'altra punta con calma calma metti da parte e proseguiamo con la challenge va bene io adesso vi mischio un po' gli oggetti perché altrimenti voi sbirciate e sapete già le posizioni si poi dopo li utilizzeremo ok allora aspetta fammi ripiegare dai te lo sei guadagnata brava ok e adesso vabbè nel volo 1 2 ok questo mettete le bende su no tanto mischio tutto mettete le bende Ludo stai sbirciando mettiti la benda bene ehi mettila mettila ehi vai Ludo tocca a te mischiamo un po' mischiamo un po' mischiamo un po' mischiamo un po' le cose altrimenti sbirciate vai Ludo vai Ludo dai Ludovica pesca bene vuol sapere si sbendatevi entrambe non c'è no non c'è cos'è che c'è scritto sopra non sono perfetta sono edizione limitata guarda vediamo che bello fammi vedere fammi vedere giro un po' le manacce giro un po' ma che bello guarda quanti colori Ludo oh ma guarda quelle tue penne Ludo lo volevo io questo è l'astruccio di pullover tinta unita zoo le hai preso tu le hai preso tu vabbè comunque sono un sacco di cose belle quindi metto subito la venda e poi esco siamo pronti Ludo consegna l'astruccio che lo metto tra le tue cose e siamo a due ok tocca a me vai Auri aspetta che ti mischio un po' ti mischio un po' ti mischio un po' vai Ludo mischia 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 altrimenti prende le cose più belle vai Auri 3 2 1 via no qua no ah scusa no può pescare ovunque Ludo è un diario che ho preso vediamo 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 cosa scriverai ho detto dov'è la chiave oh che bello ho preso il diario di pullover tinta unita Ludo lo vedi finalmente vediamo ah no questo sempre prima non sono perfetti cosa scriverai qui in questo bellissimo diario intanto apriamo e vediamo no no non si apre consegna consegna dammi e siamo a 2 per Auri vai Ludo bendati Auri tu mischia posso? mischia mischia si si ecco qua no bisogna mettere tutto sul banco vai vai Ludo 3 2 1 via vediamo 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 bellissimo si che bellissimo che bello Ludo tutti i pastelli stai prendendo cerniera wow c'è anche una cerniera qui puoi metterci qualcosa ma sono delle segretine e qui ci sono tutti i colori perfetti non è giusto tu stai cercando solo e soltanto pastelli anche qua ci sono una scuola bellissimo ok dammi 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 bene su che tocca ma adesso metti questo qua giù metti giù aspetta che devo chiudere consegna Ludo ma non so se ci hai fatto caso ma tu stai prendendo tutte cose della linea tintunita zo guarda qui guarda stai prendendo tutto della stessa linea ma io invece ho preso un po' mischiato e luchetti tintunita zo che carino metti giù bendati che devo mischiare Ludo ti mischia fatto? no mischia bene Ludo mischia bene sono prontissimo ok stop 3 2 1 via scatto hai preso lo zainetto di allo kitty ma non so pronto lo zainetto di allo allora ma non puoi mettere i libri si ma come posso mettere i pastelli i pennelli il mio diario o lo puoi utilizzare per andare a fare una gita quello lo vediamo no poi allora vediamo qui c'è un forse non c'è niente taschina vabbè qua c'è qui c'è una tascuna e poi qua c'è una tascona c'è una scusa no ragazzi incredibile poi qua ci sono altre due tasche dove posso mettere la borraccia e un ombrellino ma ma è tutto passato dammi 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 e anche questo si aggiunge alla tua collezione tintonita e lo kitty perfetto ok tocca a te vai ludo vendati mischia mischia auri stop vai ludo pesca ludo pesca ok vai apri dai sono sono super curiosa c'è lo scotch qua dentro vediamo 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 come c'è lo scotch e dai aiutala aiutala ma guarda che dopo questo diventa un salvatanaio che ballo hai visto sopra cosa c'è vai tira su tira su tira su bravissima no non ci credo ancora no no ma non è giusto ma tutti tu li stai pescando i pastelli adesso luda è proprio una bella scorta di pastelli ma anche questo anche questo stai pescando nulla di anuchitti anche questa è la la linea tintunita zoo rana è colpa mia io non sto a vedere ecco qui ecco qui ecco qui vai auri bendati devo mischia sì vabbè mischia su 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 no dai ho fatto il mio fatto mischia 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 sono pronta per scavare via 3 2 1 via le scaudi vado vai vai ok vedo cosa stai facendo io vedo un po' silenzio ah ma sta facendo qualcosa no no metti giù ludo metti tutto sul banco io scelgo questa hai scelto questa questa ecco cos'è oh mio dio è la massa mamma la borsetta di pullover è la chi e te molto piccola allora vediamo un po' come si apre allora qui ci abbiamo si fa così vediamo vediamo è molto sicura questa borsetta mi piace mi piace mi piace carino lo apre guarda quel chiocchestino che fa ci sta ci sta ci sta brava ottimo come sta mamma benissimo dai con cura posso 3 2 1 via ludo no vabbè non ci credo ludo ma tutti tutti gli astucci stai prendendo cioè io domani cosa porto a scuola voglio capire non ho nemmeno un astuccio guardate qua che bello vediamo i pennarelli vediamo ragazzi vediamo i pennarelli c'è anche lo sapere mamma io vediamo di qua cosa c'è la forbicetta e di qua di qua di qua che carino che carino questa penna qua ci sono tutti i materiali ma che bella questa penna di alluviti mamma ho scoperto che questa è una gomma davvero mamma io ho solo dei pennarelli anche io voglio avere un astuccio mamma non ti sei accorta che questi sono degli occhi si ho visto troppo belli bello ma qua posso mettere anche qualcosa certo ok dammi 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 finalmente anche tu hai pescato qualcosa di hello kitty così domani facciamo quattro ma scusami Ludo ma quanti astucce hai pescato uno due tre quattro ma quanti pennarelli pastelli sei attrezzatissima adesso a scuola va bene auri bendati io non sono celoso vai vai mischia Ludo inizia vai inizio no fatto no ok fatto no 3 2 1 via come pescato oh mio dio solo pescato oh guarda no che bello è ovviamente bello ecco ta eh pintonita hello kitty ragazzi guardi che cosa allora voglio vedere l'altro ha qua nome cognome indirizzo cellulare email scuola classe materia vediamo se ha righe quadretti eh si è proprio a righe è proprio adatto a te si ma guardiamo un attimo gli stick good let's go party don't forget allora lo sai a me quale mi piace queste qua delle faccine e anche una leona che sembra leo va bene dammi aggiungiamo alla tua linea scuola vai vendati vendati ok vai ludo vendati quante sono queste 10 mischia mischia Auri per sicurezza mischiamo mischiamo stop 3 2 1 via dai scuola guardiamo questo vediamo 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 se li scocci ma io ragazzi non ce la faccio che belli fantastici io li voglio aprire guarda quanti tipi aggiungiamo anche questo alla tua collezione scuola e adesso mi piace prenderò io pastelli mi sa che sono finiti i pastelli metto la penna vai vai ludo mischia mischia 3 2 1 via avanti 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 vediamo l'hai toccato due volte no questo non è niente avanti questo vediamo è uguale alla hai fatto il completo guarda qui ma io sono io sono pronta per andare a scuola che bello benissimo qua metterò tutti i miei soldini così quando uscirò con le mie amiche ottimo dammi ecco me allora mescola ma prendi al volo vai mamma guarda sei molto brava nelle prese comunque mettila bene la domica mischia 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 mamma guarda sono rimaste due cose di tinta unita so e tre cose di tinta unita luchitti va bene va bene ok si hai ragione quando vuoi 3 2 1 via che bello ma tutti tu li hai presi Ludo ah no questo è voluto finalmente ah meno male perché con tutti quei pastelli che ti ritrovi c'è una taschina almeno hai dove metterli aspetta qua c'è una taschina che bello no ragazzi io ce la faccio bellissimo la forbice e che posso mettere tutto super ma se vuoi sapere quando adesso ci vuoi portare domani a scuola mille vabbè tocca a me di nuovo vai brava Ludo e questo è di Hello Kitty prego Ludo venga 3 2 1 via vediamo vediamo cosa ha pescato Aurora vediamo un pochettino che carino qui ci puoi mettere tantissime cose Auri ragazzi guardate che meraviglia super 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 dammi vai mamma vai bendati Ludo allora è rimasta solo una cosa di tinta unita Hello Kitty e due cose di tinta unita ok mescola mescola 3 2 1 via vediamo 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 che bellino questo borsellino ok mettiamo anche questo tra le cose di Ludo io mischio e procediamo con la challenge comunque se devo dire le cose di pullover renderanno la scuola molto più ok vai vado vai Ludo ah no 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 scusate restano solo due cose allora dovete bendarvi tutte e due e io le mischierò oh arci di arbolina 3 2 1 sì la mia tinta preferita tinta di Ludo no ma ragazzi Auri hai fatto il completo tu è vero la borsatina io quasi anche tu Ludo hai quasi pescato tutto della linea tintonita challenge completata e adesso gli unicornini dovranno scegliere chi ha pescato le cose più belle ragazzi guardate attento a me anche se devo dire che è molto difficile scegliere perché è tutto molto bello ragazzi io mi sono innamorata di questi scotch no ragazzi allora Auri perché gli unicornini devono votare te beh ovviamente perché ho scelto le cose più belle ma le mie ragazzi hanno qualcosa di profondo il completino lo zainettino delle brush diciamo così un borsellino un quadernino un diario segreto puoi scegliete voi eh io non mi offre Ludo invece perché dovrebbero votare te Ludovica ma quante cose belle hai pescato e poi anche perché c'è questa scotch e anche per questo anche per questo anche per questo anche per questo e anche per questo e anche per questo va bene allora resta a voi unicornini votare uno se vi è piaciuto di più ciò che ha pescato Ludovica due se vi è piaciuto di più ciò che ha pescato che dire ragazzi le cose di pullover sono magnifiche e inoltre votate giù nei commenti se vi piace di più la collezione di tinta unità Hello Kitty oppure la collezione di tinta unità Zo scriveteci giù nei commenti della community e vabbè noi vi salutiamo speriamo che questo video vi sia piaciuto madame vabbè ragazzi questa questa è pazza iscriveteci chi batte la campanellina e lasciate tantissimi pollicioni inzù fatelo eh ciao ciao ah dimenticavo ragazzi se volete anche voi acquistare i prodotti di tinta Nutella Kitty e di tinta di Tozzo li potete trovare nelle migliori cartolerie vi lasciamo qui sotto il link in descrizione ciao ciao ciao